Ha esordito anche lui in questo inizio di stagione positivo del Bari. Daniele Schaudone, classe 88 per mister Torrente, dopo la buona prestazione contro il Varese, rappresenta una pedina importante in mezzo al campo. Difficile dire che qualcuno stia facendo male in un Bari che alle prime giornate ha dimostrato di avere gambe, cuore e cervello. Vogliamo trovare un difetto a tutti i costi alla squadra biancorossa? Cerchiamolo nei gol dei centrocampisti. Fino ad oggi, delle nove reti segnate dal Bari, una sola è quella di un mediano galano. Ci alleniamo anche durante la settimana con i tiri da fuori, cercheremo di provarci di più sicuramente. Il Bari viaggia con il morale alto nonostante la penalizzazione iniziale e gli altri due punti da poco tolti alla squadra da parte della commissione disciplinare per i mancati pagamenti di stipendi e contributi. So che posso mettere in campo tanta voglia, tanta determinazione, tanta corsa, tanto spirito di sacrificio e poi fare quello che il mister ci chiede in settimana. Sabato prossimo appuntamento sul campo del Crotone, poi turno casalingo contro la Provercelli nella gara infrasettimanale di martedì 25 settembre. Non è sicuro che il Bari giochi sul terreno del San Nicola che ha appena cominciato la rizzollatura a causa delle cattive condizioni dell'erba. Sugli oltre 7.000 metri quadrati di campo saranno posizionati oltre 900 rotoli di erba.